siamo collegati con don aniello carinci responsabile del servizio scuola della diocesi di vallo della lucania perché sono giorni importanti questi il 25 gennaio scadono i termini per le pre iscrizioni a scuola e naturalmente le famiglie devono esercitare una scelta importante che quella si avvalersi o meno della religione dell'insegnamento della religione cattolica perché dovrebbero le famiglie sia dei bambini che vanno alle scuole elementari che le scuole medie e anche quelli delle superiori decidere di avvalersi della dell'insegnamento della religione cattolica credo che sia appunto un'opportunità per poter approfondire la propria conoscenza interiore attraverso quello che appunto come richiamavi tu è uno studio ben strutturato che che poi ha dei collegamenti in mani con tutte le discipline quindi la disciplina della dell'insegnamento della religione cattolica va oltre appunto gli schemi che noi a volte ci siamo costruiti nel tempo no come se fosse una seconda ora di catechesi invece no è proprio uno studio ben organizzato messo anche in mano se posso permettere di dirlo ma una persone competenti che sono gli insegnanti di religione e poi questo clima di particolare tensione ansia sento da più parti la bella sottolineatura che appunto gli insegnanti di religione riesce a raccordare un poco quelle che sono le varie file della scuola quindi anche il rapporto tra i docenti stessi con gli alunni con le famiglie e questa è una cosa che a noi non può far altro che bene. Tra l'altro la nota della CEI che è stata pubblicata proprio ad inizio gennaio tende proprio a sottolineare l'importanza anche per la cultura e per il dialogo c'è un passaggio che mi ha colpito molto l'importanza di questa scelta è anche perché è importante allenarsi al dialogo sempre rispettoso dell'altro di formare una coscienza matura imparando a crescere tenendo conto degli altri e soprattutto dei più deboli e questo lo scopo di un percorso sul senso religioso che sin da piccolini ma ancor più forse anche in adolescenza è importante compiere. Nel rapporto degli innamorati tra gli innamorati eh non ci deve essere la costruzione il perforza eh tendo a ribadire che una possibilità che la scuola ci dà e quindi eh può essere questo un veicolare un messaggio importante alla nostra società quindi a prescindere dal barrare con la X l'adesione o meno eh all'insegnamento della religione cattolica credo che mh sia un'opportunità da cogliere a prescindere anche dal fatto di essere religiosi o meno praticanti o meno credenti o meno quindi un rapporto libero anche con la scelta se la venuta del Signore eh ci ha portato un dono è quello della libertà sentirci davvero liberi di scegliere e liberi di sentirci figli di Dio. Grazie a Don Aniello ricordiamo la scadenza per le preiscrizioni a tutte le scuole di ogni ordine e grado è il venticinque gennaio quindi eh è importante che le famiglie portano avanti una scelta sempre più consapevole. Grazie. Voglio concludere Vito con un un mio pensiero. Fare entrare eh Gesù nella propria vita quindi il Vangelo eh è un movimento interiore importante per dire viva l'uomo e oggi è una bia a mon bisogno. Grazie. Grazie.